Pochissimo spazio per preparare la partita di Vercelli, ma quell'asso risicato di tempo deve pur bastare. Venerdì e la rifinitura prima della partenza per il Piemonte sono servite a Francesco Monaco per riflettere sulla pessima prova della sua lucchese contro il Grosseto. Da capire cosa fare per cercare di ovviare ad un avvio stagionale forse più complicato del previsto. Un punto nelle prime tre gare, con tre reti segnate, tutte alla modesta per Golettese, e ben otto incassate, la dicono lunga sulle difficoltà della Pantera. Allora il sessantenne tecnico rossonero sta valutando e pare ormai aver deciso di cambiare modulo, che non sarà il 4-2-3-1 né tantomeno 4-3-3, col quale pure era partito mercoledì scorso. Si passa al 4-4-2 per dare solidità e quadratura ad un complesso finora troppo sfilacciato e vulnerabile. Proviamo ad ipotizzare l'undici che domenica ore 17.30 calerà il Silvio Piola al cospetto della blasonata e ambiziosa compagine vercellese di mister Modesto, di nome ma non di fatto. Coletta tra i pali, Bartolomei, De Vito, Benassi, Adamoli in difesa, Nannelli, Meucci, Cruciane, Convitto e Mediana, Moreo e Bianchi in attacco. Il pallone racconta che l'ultima volta della lucchese a Vercelli fu il 13 aprile 2019, dunque più o meno un anno e mezzo fa. Al Silvio Piola finì 0-0 era la lucchese di Giancarlo Favarin e di quel gruppo davvero magnifico che conquistò da solo una fantastica salvezza a Bisceglie, vanificata poi dal terzo fallimento in 11 anni. Fu una gara dove la lucchese se la giocò a viso aperto di fronte ad un avversario più forte sul piano tecnico. Grande protagonista è il portiere Falcone che all'incedere del novantesimo parò un rigore a Comi, decretato per un fallo di De Vito su un malo. Fu un punto assai pesante anche per quello che poi successe da lì in avanti e che poi è diventato storia. Grazie.